Partirà il 22 febbraio la seconda fase della campagna vaccinale, intanto sono in corso dalla scorsa settimana anche le prenotazioni per la somministrazione del siero anti-covid per gli ultraottantenni. Numerose richieste sono arrivate già al centro unico di prenotazioni dell'ASL, sul sito Puglia Salute e presso le farmacie, punto di riferimento grazie a un accordo firmato tra Regione e Federfarma. Ma non sono mancate le difficoltà, come ci ha raccontato il farmacista dottor Andrea Vacca. Le prenotazioni procedono bene, un ritmo abbastanza serrato. Le problematiche che abbiamo vissuto sono state problematiche non legate alla ricezione della farmacia, bensì al collasso del sito predisposto dalla ASL e dalla Regione per poter accogliere le prenotazioni stesse. Il portale, più che il sito, ha iniziato a essere fruibile alle ore 14, alle 16.30 di giovedì è collassato. E quindi ha dato delle forti ritardi e delle forti mancanze di questo servizio. Venerdì è andato un po' meglio, stamattina sembra che il problema sia risolto. A causare il rallentamento dell'avvio della fase di prenotazione del vaccino per gli over 80, anche le linee intasate del CUP. Fortunatamente però, pare che i problemi siano stati risolti su entrambi i fronti. Saranno 2.774 gli anziani che in città riceveranno il siero anti-Covid, perciò c'è ancora da attendere per il termine di questa fase di registrazione delle richieste. Abbiamo creato una fila apposita soltanto per la vaccinazione, sempre cercando di evitare quelli che sono gli assembramenti sia esterni che interni. Credo che ci sarà ancora da lavorare sotto questo aspetto per una settimana o una decennia di giorni per poter smaltire queste prenotazioni. La somministrazione del vaccino per gli over 80 sarà effettuata in ambulatorio o a domicilio. La prenotazione per la vaccinazione in ambulatorio può avvenire di persona in farmacia, per telefono al CUP sul portale Puglia Salute. Al momento della prenotazione verrà indicato il giorno, l'ora e il luogo della vaccinazione. La vaccinazione a domicilio invece è prenotabile sempre telefonicamente al CUP e in farmacia, ma i tempi di attesa per conoscere gli estremi dell'appuntamento sono più lunghi. La richiesta domiciliare è una segnalazione che noi facciamo alla ASL fornendo un numero di telefono. La ASL con il sistema informatico recepisce questa segnalazione, contatterà il paziente e stabilirà quando poi passerà dal suo domicilio a fare la vaccinazione.